Il raffreddore. Quando è freddo, qualche volta ti viene un pizzicore al naso, sale un po' la febbre alta, viene l'occhio lacrimoso, la tua testa si confonde, ti si imbrogna un po', respiro e un solletico ti prende, e allora, e allora, eccetera, hai preso il raffreddore, bagni cento fazzoletti, mille volte soffinato, te ne vai tutto confuso e ti senti molto strano, sembra di essere ubriaco, con quel naso tutto pieno, e allora, e allora, eccetera, hai preso il raffreddore. Per curare un raffreddore non occorre all'ospedale, basta stare un po' il calore, basta bere il miele, così forte, piano, piano, finirà questo tormento, prima o poi ritorni sano, e allora, e allora, e allora, eccetera, hai preso il raffreddore. Ciao!